benvenuti ad una nuova edizione flash del nano tg partiamo subito dalla prima notizia di cronaca un non violento incendio ha distrutto circa 30 mila metri quadrati di macchia mediterranea nel territorio di flumeri in provincia di avellino sul posto sono intervenuti i vigi del fuoco dell'istaccamento di grotta minarda e i carabinieri che hanno avviato indagini per risalire alle cause non si registrano fortunatamente danni a persone o strutture economia il ministro delle imprese del made in italy guidato dal ministro adolfo urso ha stabilito con avviso pubblico i termini per la presentazione delle domande di agevolazione inerenti al rilancio dell'attività imprenditoriali dell'area di crisi industriale del territorio di caevano cultura mostre a napoli successo dei bronzi di san casciano e tolkien oltre 310 mila visitatori e concludendo con la pagina dedicata allo sport conte napoli ha tanto da fare per avere una stagione migliore valutazioni per capire chi rimane e chi è giusto che vada altrove ed era questa l'ultima notizia di questa edizione flash vi ringrazio per averci seguiti come sempre e vi rimando a restare connessi su tutti i nostri canali social a partire la pagina facebook instagram tiktok canale youtube e sito web www.nano tv.it canali social a partire la pagina www.nano tv.it